I vincitori dell'ISCHIACENTO. Nel percorso lungo dei 100 km a tagliare il traguardo per primo è stato Mauro Coppola del Lucky Team con 2 ore 44 primi e 42 secondi. Sapevo di stare bene ma non me l'aspettavo di vincere così per distacco. È andata bene, ringrazio tutta la squadra, siamo squadre, siamo un gruppo di amici, non ci definiamo neanche squadra. Noscevamo già la grande macchina organizzativa e quindi abbiamo fatto di tutto per esserci. Al secondo posto Raffaele Luongo del Pozzuoli Cycling, al terzo Gaspari Coppiello della Zero a Zero Cycling. Siamo del team ciclismo sorrentino, ieri siamo venuti ieri pomeriggio qua in questa bellissima isola e oggi abbiamo fatto tre giri per vederlo bene il percorso. La cosa bellissima è il percorso è chiuso totalmente al traffio quindi ti fa stare bello tranquillo. Migliorare, sicuramente ci sarà qualcosa da migliorare però è talmente tutto buono e fatto bene che va bene già così rispetto alle altre prove che ne facciamo. Per quanto concerne il percorso breve 70 km si è classificato al primo posto Cesare Cristiano dell'Euronics Team con 1 ora 52 primi e 48 secondi. Quest'anno il mio team è Euronics Gruppo Tufano, il presidente Luigi Mutio e ringrazio a lui che ha creduto in me perché erano due o tre anni che non stavo più gareggiando, mi siamo un po' scocciato. E' lui Pasquale e Galletta che hanno creduto in me, ringrazio a loro perché è una bella Gran Vondo, comunque dura 70 km, infatti belli io e Coppola siamo andati d'accordo, abbiamo fatto subito la selezione. Poi lui è andato per la lunga, io sono andato per la corta e ho vinto. Seguito da Claudio Romagnoli del club del pedale. L'isola è bellissima, noi veniamo ogni anno il venerdì, quindi diciamo siamo qui proprio per privilegiare questo aspetto più turistico che altro, quindi è una manifestazione a cui parteciperemo anche l'anno prossimo. E' Raffaele De Gennaro della 0 a 0 Cycling. Tra le donne, nella 100 km, ha tagliato il traguardo per prima Emma Albani con 3 ore 16 primi e 54 secondi, seconda Cinzia Baccini del team a ruota libera, terza Enrica Di Stefano della direttantistica del Rio Nero. Nel percorso breve invece è salito sul gradino più alto del podio Sonia Arena della ciclistica salernitana. Molto bello il percorso fantastico, è stato un po' difficile perché partire con la salita, gambe fredde, un po' tosta però abbiamo recuperato, non me l'aspettavo perché sono un po' cicciottella, tanto dislivello ma bellissimo, bella organizzazione. Ritorneremo in tutta la squadra perché veramente è una bellissima organizzazione ed è anche difficile trovarla al sud, un'organizzazione così completa, quindi sono veramente contenta. Poi Antonietta Capuano del team Russolillo e Barbara Buonovolenta del ciclo Delta.